Siamo ai cento anni dalla nascita di Alberto Sordi e non poteva mancare naturalmente anche la voce di Saladini che è un narratore, un raccontatore, un affabulatore, proprio uno che sul palcoscenico ci sa stare. E allora, come nasce questa idea di regalare ai cività vecchiesi all'interno di questo spazio estivo anche questa parte dedicata a un grande attore scomparso? Allora, l'idea è nata a me e a Marco Manovelli, che ormai siamo una coppia stabile della cultura cittadina, perché ci piace veramente portare sempre cose nuove. Alberto Sordi, come non celebrare questo straordinario attore che ha raccontato l'Italia. Non a caso una famosa trasmissione della RAI suonava Storia di un Italiano. Alberto Sordi ha raccontato con tutti i suoi personaggi, un calidoscopio di personaggi incredibili, l'Italia vigliacca, traditrice, ipocrita, ma anche quella capace di grandi gesti. E quindi è la maschera, la maschera cinematografica più bella per raccontare veramente gran parte del Novecento in maniera creativa, divertente ed a volte anche in maniera da lasciarci pensare. Per quello che mi riguarda ovviamente c'è tutta la parte musicale. I musicisti che sono Anthony Caruana alla chitarra, Gino Fedeli alla tromba, Ermanno Pizzardi al pianoforte, Fabio Pizzardi alle percussioni e Massimo Pelo al basso. Poi abbiamo due ballerini e attori, Giada Venturini e Fabrizio Lazzari, che riprenderanno alcune parti di film un pochino divertenti. Le coreografie hanno avuto l'aiuto veramente simpatico, forte e professionale di Rita Sciotto, che non vuole comparire sul manifesto ma è parte integrante del nostro lavoro e è straordinaria, è brevissima. Non mi resta che darvi appuntamento per questo importante spettacolo che si terrà alla Piazza della Vita. Martedì 11 agosto, ingresso dalle ore 19, inizio dello spettacolo alle ore 21, i biglietti su unbilletto.it